Musica Che in un momento di crisi come quell'attuale, i luoghi dove circola del denaro contante siano quelli più a rischio rapine è noto, ma che siano sempre alcuni e non altri, dovrebbe far riflettere. Anche perché almeno la terza volta che la filiale di Via Roma, Santa Domenica dei Ricati, della banca Monte dei Paschi di Siena, viene presa di mira da criminali che la rapinano. Evocando il film di Mario Moricelli con Totò, Marcello Mastroianni e Vittorio Gasman, i soliti ignoti dove i nostri protagonisti cercano di scassinare una cassaforte sfondando un sottile muro che divide un'abitazione privata dal Monte dei Pegni, anche nel centro turistico vibonese alcuni delinquenti hanno fatto un buco nel muro per penetrare all'interno della banca e quindi portarsi via tutto il contante in cassa. Sfruttando il weekend appena trascorso, quando c'è all'interno dell'istituto di credito non c'è nessuno, due persone, anche se si sospetta che esista almeno un altro complice, hanno fatto un buco in un muro al lato posteriore dell'edificio che sfocia vicino ai servizi igienici e poi hanno atteso che gli sportelli fossero chiusi al pubblico, dopo che i vari commercianti della zona avevano fatto i versamenti degli incassi del fine settimana e quindi sono sbucati armati all'interno dei locali, dove erano presenti il direttore e due impiegati. Gli uomini col volto travisato hanno malmenato i tre dipendenti, intimando loro di consegnare tutto il denaro presente in quel momento in banca, circa 30.000 euro, e poi si sono dileguati a piedi, anche se gli inquirenti non escludono che un terzo soggetto li attendesse non molto lontano con un'auto. Immediato è scattato l'allarme che ha messo in moto il piano antirapine con pariche pattuglie arrivate dal posto fisso di polizia di Tropea, dai carabinieri della stazione di Spilinga, insieme a quelle dei colleghi della compagnia di Tropea e del nucleo elicotteri, che ha fatto alzare un velivolo. Ma nulla, i rapinatori sono scomparsi nel buio della sera che stava calando inesorabile sul centro turistico della Costa degli Dei.